Questo è lo stabilimento Sapio, come si può sentire il rumore è presente, siamo a circa un chilometro di distanza, siamo in pieno giorno, siamo a circa 400 metri, in pieno giorno, come si può sentire il rumore è molto forte, è sopportabile questo rumore. Qui ci sono le case, sono vicinissime, eppure nessuno si lamenta, io non so. Siamo a circa 300 metri, il rumore è fortissimo, qui ci sono le case. Ci troviamo nei pressi dello stabilimento Sapio. Siamo vicinissimi all'impianto industriale della Sapio, come si può sentire, questo è il rumore degli impianti, ci avvicineremo ancora di più. ci stiamo avvicinando, la Sapio è vicinissima, il rumore è insopportabile. da qui proviene il rumore, arriva anche a due chilometri di distanza.